Deve fare veloce, sacchita! Deve buttare dentro e prendere! Bravo, dai! Fai veloce! Il signore ti bagna il cavallo e l'ha preso la mano! Ti voglio salvare, imbecilia! Ma che salvare? Andiamo in forno, quello lì, condito! Deve essere una roba fantastica proprio! Ma sei lenta! Ma sei lenta, eh? Oh, bravissimo! 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 Tu deve fare... Sacchita! Subito! Guarda, tira, tira! Pum! Non, non, non lo tira! Mamma! Deve raccoglierlo! Sacchita! Tu non hai chiamato! Ti butti dentro! Deve raccoglierlo! Sacchita! Eh, bravo, così! Brava! Eh? Ma la pisa! Ma la pisa! Ma la pisa! Pisa! Questa al forno proprio! Alla pisa! Io lo vedo al forno! Io lo lascio! Nel fiume ma pesa! So come fare! Luca! Adesso ci penso! Guarda qua! L'ho preso! L'hai fatto il filmato! Certo! Guarda! Ti salvo! Dammi, dammela! Dammi il bastone! Dammi il bastone! Dammi il bastone! Pesa, eh! Sarà 5 kg! Intento che non scappi adesso! Te la voglio salvare! Continua a fare il filmato! Continua a fare il filmato! Continua a fare il filmato! Ma cos'è? Un persico? Sei insanguinato! Certo! Un reno! Dai che lo lasciavo! Adesso la forza di racket si cammina! Eh? Chiudi il filmato! Dov'è? Il motor racket dove si cammina! Sì! Non lo so! Dobbiamo cercare di mandarlo via! Aspetta chiudo! Ok! Dopo mi fai il filmato! Dove si cammina! Ma non sei mica chiuso! Aspetta! L'avevi già chiuso? No!